Ho scelto Milano perché qui ho studiato, ho studiato ingegneria al Politecnico di Milano da pendolare. Qui poi ho incontrato mia moglie, Toscana, che rientrava da dieci anni all'estero. Dinamica, Milano ci ha adottato, qui abbiamo avuto le occasioni professionali, abbiamo costruito la nostra famiglia e una serie di relazioni personali che ci sono state molto vicine in alcuni momenti particolarmente difficili della nostra vita. Umana, l'altro grande protagonista della mia vita milanese è il Politecnico di Milano, qui ho fatto attività di ricerca, ho promosso innovazioni con imprese e con le istituzioni, ma soprattutto qui ho incontrato migliaia di giovani talenti che mi commuovono ancora oggi quando li incontro e mi presentano la loro famiglia in giro per il mondo. Intrigante, quindi una Milano è una grande metropoli con un grande cuore. Io ho scelto Milano. Io ho scelto Milano.